Ben ritrovati a una nuova puntata di Chiediluai Talents, l'appuntamento settimanale di WeWealth dedicato ad approfondire i principali temi legati al mondo legal e fiscale del Wealth Management, ma soprattutto l'appuntamento che vi consente di entrare in contatto diretto con gli esperti e i professionisti del settore. In che modo? Collegandovi all'indirizzo che vedete scorrere in sovraimpressione oppure inquadrando il QR code alla mia sinistra. WeWealth vi metterà in contatto con i professionisti. In questa nuova puntata torniamo a parlare della Trust, uno strumento giuridico di origine anglosassone che viene utilizzato per tutelare il patrimonio e che in sostanza consente di trarre vantaggio dalla separazione di un insieme di beni dalla propria sfera personale. Non tutti però ne conoscono il funzionamento, le caratteristiche, le potenzialità e anzi molte volte si tende a considerarlo uno strumento adatto a poche persone, anzi costoso e quindi poco praticabile. Scopriremo a breve insieme al nostro ospite che non è proprio così. Do quindi il benvenuto al nostro ospite Maurizio Casalini, CEO di Absolute Family Office e partner dello studio legale Casalini e Zambona. Ben arrivato Maurizio. Salve Chiara, grazie per l'invito e buonasera al pubblico di WeWealth. Grazie e grazie a lei per essere con noi. Maurizio, insieme a lei in questa prima puntata che WeWealth ha deciso di dedicare al tema del trust cerchiamo di capire meglio questo istituto giuridico, quindi perché usarlo, quando usarlo, come usarlo, che costi ha e chi coinvolge. Insomma, l'ABC del trust. Partirei quindi dalla domanda più ricorrente. Perché si fa un trust? Esistono tante motivazioni in realtà. Certo. Genericamente perché si ha in mente un programma da realizzare in futuro, ma si teme di non essere più in vita o comunque di non essere più in grado di realizzarlo a causa di malattie, invalidità o dipendenze. Oppure si teme di non avere la capacità di realizzarlo. Facendo qualche esempio, i casi più frequenti fanno riferimento a imprenditori che intendono pianificare il passaggio generazionale in azienda in modo efficiente, facilitando un ingresso graduale ma progressivo dei figli, ma mantenendo saldamente le redini in mano. Oppure volendo scongiurare i rischi di conflitti tra i figli. Può essere anche il caso di manager di società che vogliono tutelare il proprio patrimonio dai rischi e dalle responsabilità che il loro ruolo comporta a tutela dei familiari. sportivi o artisti che vogliono tutelarsi da proposte di investimento provenienti da fonti poco affidabili, persone che hanno un evento di liquidità, ad esempio la vendita di un'azienda o un'eredità e non sanno come gestirlo, o persone che intendono tutelare persone fragili per il momento in cui non ci saranno più, quindi il cosiddetto caso del dopo di noi. Quindi le casistiche sono tante. Fatta questa premessa sul perché e quando usarlo, adesso cerchiamo di capire un po' meglio che cos'è il trust, che soggetti comprende e che forme può assumere. Certo, il trust è un rapporto giuridico mediante il quale un soggetto, che chiameremo disponente, intende realizzare determinate finalità e quindi affida alcuni beni necessari per la realizzazione del programma ad un altro soggetto, il trust, il quale li riceve diventandone proprietario, ma al tempo stesso si obbliga a gestirli, realizzando il programma, per perseguire le finalità definite dal disponente. Il vinco di destinazione impresso dal disponente sui beni, che quindi sono destinati alla finalità prescelta, creano un effetto segregativo sugli stessi, facendo sì che i beni post in trust non possano subire, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, aggressioni da parte dei soggetti terzi. Per lo stesso motivo... Quindi Maurizio, diciamo, si crea proprio una separazione del patrimonio, si decide inattaccabile, possiamo dire così. Esatto, è una separazione sicuramente dal patrimonio del disponente che li ha trasferiti al trustee, ma anche una separazione dei beni dal patrimonio del trustee che è nel proprietario, tutti gli effetti di legge. Infatti lo stesso trustee non può godere di questi beni, non può ottenere alcun beneficio dagli stessi, proprio perché sono destinati ai vantaggi che spetteranno ai beneficiari o al raggiungimento di una particolare finalità prevista dal disponente. Le finalità, appunto, devono però essere meritevoli da parte del nostro ordinamento. Nella maggior parte dei casi, nella realtà dei trust italiani, le finalità sono l'assegnazione di vantaggi patrimoniali, ma non solo a favore dei beneficiari. Quando questi ultimi sono componenti della famiglia, normalmente viene definito, viene chiamato trust di famiglia. Maurizio, una precisazione. Ha parlato del beneficiario. Chi lo sceglie? Anche il trustee può occuparsi di questo aspetto? I beneficiari nella prassi italiana sono individuati al momento dell'istituzione o in un momento successivo dal disponente stesso. Tuttavia, quest'ultimo può scegliere di attribuire al trustee il potere di disegnare i beneficiari o disegnare le spettanze di ciascuno di essi. Oltre al trustee c'è un'altra figura, che è quella del guardiano, che ha funzioni fiduciari. È una figura, appunto, di fiducia del disponente, scelto dal disponente, il quale ha il compito di vigilare sul corretto operato da parte del trustee, eventualmente, in caso di necessità, revocarlo e sostituirlo con un altro. Quindi, ricapitolando, abbiamo quattro figure. Il disponente che sceglie di separare una parte del proprio patrimonio, sintetizzando. Poi abbiamo il trustee, abbiamo il guardiano, se nominato, e infine il beneficiario. Un'altra domanda, Maurizio, su cui spesso si tende a fare un po' di confusione, è sulle forme che può assumere il trust e anche sulla durata stessa del trust. Ecco, partendo dalla durata, questa viene definita dal disponente stesso, il quale può scegliere una data allo scadere della quale il trust viene accessario, oppure può subordinare la durata del trust al verificarsi di un evento. Quando questo evento effettivamente si concretizza, il trust viene accessario. Invece, sulle forme che può assumere, si sente parlare di trust esteris, trust interni, qual è la differenza? In Italia abbiamo una disciplina che riguarda il regime fiscale del trust, recentemente poi puntualizzata e chiarita dalla circolare 34 del 20 ottobre scorso, che ha chiarito tanti aspetti, rimasti un po' nel dubbio, per quasi 15 anni. Ma al momento siamo privi di una normativa che disciplina gli aspetti giuridici del trust. Quindi siamo costretti a fare riferimento a specifici leggi di ordinamenti stranieri che prevedono comunque l'istituto del trust. Gli effetti di un trust istituito all'estero, o in Italia, ai sensi però di una legge straniera, sono comunque riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione dell'AIA del 1985, che è entrata in vigore nel 1992, quindi più di 30 anni fa. Rispetto ai trust esteri, in Italia si è sviluppato negli anni, ha preso piede il concetto del trust interno, cioè quella tipologia di trust in cui disponente, beneficiari, trustee e guardiano, e anche i beni sono tutti italiani, ma l'unico elemento di esteriorità è la legge applicabile. Questi trust sono riconosciuti dalla nostra giurisprudenza e anche da alcune norme italiane a partire dal 2000, quindi oltre 20 anni che il trust interno è riconosciuto dalla nostra giurisprudenza. Chiarissimo. Tra le domande che spesso arrivano in redazione, vi è quella che riguarda, insomma, concretamente l'istituzione del trust, no? Come si va? Si deve andare da un notaio, da un altro professionista? Chi deve essere presente? Allora, sicuramente la persona che intende istituire un trust deve innanzitutto individuare il professionista o il team di professionisti che confezionerà l'atto istitutivo, cioè il regolamento del trust con tutte le sue parti fondamentali, le quali sono relate sulla base di specifiche disposizioni e indicazioni del disponente. In più, la figura del notario, che non è indispensabile, mai consigliata. La Convenzione dell'AIA riconosce gli effetti di un trust istituito in Italia purché abbia la forma scritta, ma per tanti motivi si ritiene opportuno dare maggiore formalità all'istituzione di un trust grazie alla presenza di un notaio che redige un atto pubblico, una scrittura privata. Quindi non è necessario il notaio, è consigliato? Assolutamente consigliato. Oltre all'atto istitutivo c'è anche l'atto di dotazione che è un atto ulteriore che può essere fatto contestualmente o successivamente anche in più soluzioni con il quale il disponente trasferisce la proprietà dei beni in altre sti. Ora, nel caso in cui questi beni sono immobili, partecipazioni, piuttosto che beni mobili registrati, quindi barche, automobili e quant'altro, in questo caso è indispensabile la presenza del notaio proprio perché le norme italiane che disciplinano il trasferimento di questa tipologia di beni richiede la presenza del notaio. Quindi ecco, nei casi più complessi ovviamente è preferibile andare da un professionista, da un notaio, ma chi deve essere presente fisicamente? L'atto istitutivo è un atto unilaterale, per cui l'unico soggetto effettivamente necessario è il disponente, eventualmente sia richiesto il notario. Nella Plasti però spesso partecipa il trustee. A proposito del trustee, Maurizio, chiunque può farlo? Chi è che lo qualifica? Beh, diversamente da quello che accade all'estero, attualmente in Italia la professione di trustee non è regolamentata, quindi al momento chiunque può svolgere questa funzione, anche in assenza di specifiche competenze. Non necessariamente deve svolgere questa attività in modo professionale, deve però godere della fiducia del disponente. Lo stesso vale per il guardiano. Ricordiamoci però che il trustee viene scelto dal disponente, ma non è il fiduciario del disponente. Il trustee è il fiduciario dei beneficiari, non deve quindi svolgere gli interessi del disponente, ma deve seguire gli interessi dei beneficiari. Non è un compito facile, in quanto il trustee deve conoscere la legge applicabile, che è una legge straniera, deve conoscere gli adempimenti fiscali, poi gli antiriciclaggio, FATCA, CRS, regole contabili abbastanza complicate. Quindi, è opportuno scegliere, per non incorrere in errori, in persone dotate delle competenze necessarie o in mancanza farla assistere dai necessari consulenti. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che quando istituiamo un trust, affidiamo, io dico, valori ed affetti al trustee, beni spesso di grandi valori che lui dovrà gestire gli interessi delle persone che ci sono più care. Maurizio, scusa, ti interrogo, ma se invece di un trustee, un, diciamo, il disponente preferisse affidarsi a una trust company, cosa cambia? Chi è che ne fa parte? Allora, ovviamente una trust company è un soggetto, una persona giuridica che svolge l'attività di trustee in modo professionale, quindi ci si aspetta che sia sufficientemente strutturata e che abbia tutte le competenze necessarie per svolgere questo ufficio, ma questo non va dato per scontato e va verificato. E se mettiamo caso sfortunato, questa trust company fallisse? Beh, dicevo prima che con il vincolo di destinazione viene a crearsi un effetto segregativo, quindi il trustee che sia esso persona fisica, ancora di più se è una persona giuridica quindi una trust company è proprietario dei beni in trust ma questi ultimi non fanno parte del suo patrimonio. L'effetto segregativo fa sì che in caso di fallimento della trust company i beni in trust non finiscono nella massa fallimentare. Quindi si applica lo stesso concetto diciamo che alla base del trust, i beni sono al sicuro. Un'altra curiosità che riguarda l'istituto del trust ovviamente è quella dei costi. quanto costa fare un trust partendo dal momento in cui si istituisce passando dalla gestione fino alle imposte che come sappiamo bisogna pagare nel momento del passaggio? Certo, diciamo che i costi si dividono in due categorie sono i costi di setup quindi una tantum e sono rappresentati dagli onerari dei professionisti che pianificano l'operazione e del notario oltre che dell'imposta di registro o di donazione e poi ci sono dei costi di gestione annuale che normalmente riguardano il trustee gli onorari del trustee e che sono in percentuale sul valore dei beni conferiti e del guardiano. Queste cariche non sono necessariamente remunerate però qua valgono gli accordi tra le parti. Ma una curiosità costa meno di una normale successione? Dal punto di vista fiscale è uguale perché in entrambi i casi si applicano le stesse imposte cioè l'imposta di donazione o l'imposta di successione che corrispondono. Per chiudere prima di salutarci cosa differenzia quindi a questo punto il trust dal fondo patrimoniale dal mandato e dal negozio fiduciario se uno dovesse scegliere fra questi istituti come deve orientarsi? Allora diciamo che l'astriminante io normalmente utilizzo un'espressione ciò che non è mio non mi può essere tolto ovviamente fatta esclusione per i casi di interposizione fittizia. Allora con il mandato e l'intestazione fiduciaria benché il bene sia intestato a un altro soggetto la proprietà rimane comunque del disponente e quindi in quanto tale è soggetto a possibili sequestri pignoramenti e contratto. Nel trust e nel fondo patrimoniale dicevo prima c'è un effetto segregativo in quanto la proprietà passa al trustee ma i beni non entrano nel patrimonio e nel fondo patrimoniale la proprietà rimane ai coniugi ma i beni sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno della famiglia questi due istituti che comunque come dicevo prevedono un profilo segregativo hanno però delle differenze sostanziali tra di loro il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale quindi è necessario un rapporto di coniugio tra chi lo pone in essere quindi ci vuole un marito viceversa questo non è richiesto nel trust per cui potrebbe istituirlo un single potrebbe costituirlo una coppia di conviventi insomma la platea è più ampia esatto è più ampia nel fondo patrimoniale posso vincolare solo beni immobili e beni mobili registrati nel trust posso vincolare qualsiasi cosa dalla collezione di farfalle agli immobili alle partecipazioni le finalità nella fondo patrimoniale dicevo prima la finalità può essere esclusivamente il soddisfacimento dei bisogni della famiglia nel trust la finalità può essere qualunque purché sia meritevole di tutela dal nostro ordinamento la durata il fondo patrimoniale ha una durata limitata alla vita del matrimonio alla durata del matrimonio quindi in caso di morte di uno dei coniugi o di divorzio quindi il momento peggiore il fondo patrimoniale viene accessare il trust invece la durata del trust è assolutamente prescinde assolutamente dalle vicende personali dell'esponente al termine del fondo patrimoniale i beni tornano in possesso dei genitori viceversa al termine del trust i beni vengono trasferiti ai beneficiari quindi non tornano in chiesa dal punto di vista pratico il fondo patrimoniale realizza un meccanismo di segregazione quindi di protezione in favore della famiglia ma nella parte fisiologica della vita viceversa non riesce a svolgere questa funzione nella parte patologica della vita di una famiglia il trust invece sopperisce a questo problema proprio perché prescinde dalle vicende personali del disponente e quindi svolge i suoi effetti sia quando la famiglia è in un momento di vita fisiologica tranquilla sia nei momenti difficili di una famiglia perfetto grazie Maurizio grazie per l'intervento possiamo dire di aver posto le basi per conoscere meglio questo strumento giuridico che come abbiamo detto negli anni è stato un po' penalizzato per via di pregiudizi timori e forse un po' una scarsa conoscenza in materia grazie mille per essere stato con noi grazie a voi io ovviamente ringrazio anche voi che ci avete seguito vi ricordo che se avete domande a riguardo potete continuare a scriverci collegandovi all'indirizzo che vedete scorrere in sovra in pressione e rinnovo l'appuntamento a seguirci per una nuova puntata di Chiedilo ai Tannens noi continueremo a parlare dell'istituto del Trust per scoprire ad esempio come utilizzarlo quando lo si sceglie per proteggere i beni di lusso oppure quando usarlo se si tratta di casi di passaggio generazionale oppure quali variabili implica il proteggere asset digitali con il Trust ma anche ad esempio perché lo scelgono gli sportivi ci vediamo il prossimo mercoledì grazie 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 a tutti